Luigi adesso te mi devi spiegare per quale cazzo di motivo io devo venire a Andrevin Mi spieghi le ragioni dietro a sta scelta, io non le capisco Ma come? Cioè esistono una lunghissima pletola di motivazioni per andare a Andrevin Senti Anna, dai Allora, punto primo Te doveva fare i bocchini in macchina E ok, e così stiamo con noi, dai dimmi l'altra adesso Sì Poi? Sì no, ho capito C'è una seconda, la due C'è mai, c'è un'altra, c'è c'è un'altra cosa Luigi Luigi Luigi, presidente Sì, sì ho capito Sì ho Oh